Sì, grazie Presidente. Colleghi, è una mozione molto semplice per molti versi, ma anche interessante sul piano della sicurezza dei giochi per bambini. Questo più o meno è il senso di questa mozione. Vado velocissimo, visto i tempi, ma anche perché credo che possa rappresentare una mozione molto ragionevole, nel senso che noi sappiamo che grossomodo in Europa sono circa 190.000 i traumi che vengono ad essere interessati i bambini. Di questi traumi, le cause più frequenti sono giuste appunto le cadute dagli scivoli nei parchi giochi e le cadute dalle altalene. In Italia si stima attorno ai 16-20.000 traumatismi all'anno, grossomodo. Sinceramente abbiamo avuto anche tante segnalazioni di parchi giochi che non sono del tutto monitorati, diciamo, come dovrebbero essere. Almeno le normative più significative in termini di qualità di questi interventi dovrebbero prevedere un'ispezione visiva ordinaria. Questo tipo di ispezione dovrebbe valutare i rischi evidenti. Un'ispezione operativa, che è ogni tre mesi in cui si controlla la stabilità dei vari giochi. Un'ispensione principale annuale che viene effettuata a intervalli non inferiori a 12 mesi, per valutare l'evento complessivo di sicurezza delle attrezzature. Diciamo, la parte più significativa rispetto a questi traumi sono i pavimenti, i pavimenti che non vengono monitorizzati abbastanza e che attenuano nel caso della caduta l'eventuale impatto a terra e quindi con traumi minimi, se ci sono i pavimenti efficientati, con traumi significativi se questi pavimenti non ci sono. Quindi quello che si proporrebbe in qualche modo è un impegno della Giunta ad attivarsi nei modi più opportuni, che ritiene opportuni, sui comuni toscani perché vengano sensibilizzati in merito alla necessità di provvedere dove necessario ad un'attenta verifica dello stato di sicurezza dei giochi, come previsto tra l'altro dalla normativa, e a monitorare il rispetto della normativa da parte dei comuni anche attraverso un monitoraggio che potrebbe avvenire mediante autocertificazione, magari con una legata documentazione, con una distinta dell'intervento, con fotografie, da inviare magari periodicamente con una periodicità stabilita dalla Giunta. Penso che sia una buona cosa avere questa sensibilità, ridurrebbe gli accessi ai fronti soccorsi, ridurrebbe le giornate di lavoro perse da parte delle famiglie per star dietro ai figli traumatizzati, magari ingessati o con una piccola frattura. E credo che sia un impegno nostro, e di questo non mi stanco mai, avere anche questa grande funzione genitoriale di protezione rispetto a queste situazioni. Grazie. Grazie.